la casa anche dall'unizione andiamo rapidamente in questo minuto finale a vedere di dopo con il partito di Alucini a giù a basterare anche in Parigi per questa storica prima volta dell'Algeria a Lutano adesso immagino che cosa stia succedendo in Algeria quando ha battuto una orea, ci sono stati poi fuochi d'artificio per 24 ore come il minimo orea è un giorno di festa nazionale è un successo anche un altro storico è un altro storico c'è anche un'altra storica che mi sorprende di sfruttare della giornata infatti parlo a questa innesima ma parla di anche che si è un certo innesio è un nostro barione come la parola adesso è uscita a poco il punto di vista stava a cercare a scurrare la giornata e vedete secondo me abbiamo già deciso di uscire un altro passo la tua matera si è in conclusione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.